oh mister viola, welcome, welcome mister viola, welcome, yeah, yeah, over here, welcome, welcome ah c'eravate cascati eh, c'eravate cascati bu pensavate che fossi volato anche io a Riyadh eh, musichina, fiori eh, ballerine eh, t'offro il te, piglio il pasticcino ma ragazzi c'è proprio un ingresso pem 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 ragazzi, comunque questo vuol dire che la Fiorentina è atterrata a Riyadh dove giovedì sfiderà il Napoli in Supercoppa Italiana al completo, out solo Castrovilli sembra, però diciamo al completo parliamo perché Dodò è lì per fan numero, González è lì per fan numero, sì che è completo un par di ciuffoli ragazzi allora ovviamente in mattinata è uscito il video del giorno dopo, ovviamente per quanto riguarda Fiorentina Udinese se ve lo siete perso andatevelo a vedere, molto semplice, vi iscrivete a questo canale, Mister Viola voi cliccate la campanella così non perdete i contenuti perché vi arriva la notifica ma più che altro ragazzi mi raccomando condividete questo video con tutti i vostri amici tifosi Viola un fate i tirchi, condividetelo, fai share se tu sei inglese, americano, tu sei condividi, se tu sei italiano condividete e commentate perché voglio sapere cosa vi pensate dell'ingresso della Fiorentina Udinese ragazzi bisogna diciate qualcosa, mi dovete scrivere qualcosa detto questo, Instagram e Facebook vi lascio qua sotto, sono gli altri miei due link non siamo ovviamente, siamo nella mia, nella mia umile cucina e allora, allora, lo vogliamo, lo vogliamo fare questa cosa, eh siamo nella mia cucina, non siamo a Riad, quindi siamo rimasti a Firenze però ovviamente vi lascio il link in descrizione di Instagram e Facebook ragazzi qua sotto in descrizione, gli amici di Space Viola e diciamo qui si parla, vabbè, ho fatto un piccolo intro per quanto riguarda l'arrivo della Fiorentina a Riad poi ne parleremo nei prossimi giorni perché insomma affronteremo la formazione, affrontiamo il Napoli vi voglio dare qualche info sul mercato ragazzi, perché? perché la Fiorentina dopo ieri sera si è resa conto, ma pensa te, ci è voluto ieri sera che forse sotto sotto bisogna dare un'accelerata a questa squadra perché ragazzi siamo volati a Riad con Brealo e con E che ieri sera parevano Gianni e Pinotto cioè nel senso parliamoci, parliamoci chiaro perché è una situazione un po' particolare questa degli esterni ora, in molti hanno detto, e io sono d'accordo anche con loro perché io ho detto Faraoni sicuramente ieri una grande prestazione per quello che ha giocato un cross che giustamente ha fatto un bel cross ma paradossalmente, e sono questi cross che bisognerebbe fare in Serie A cioè i professionisti, sono questi cross che vanno fatti cioè non ci si sorprende perché le 30 anni non ci sa un esterno che fa un cross di genere l'era dai tempi di Pasquale e anche lui ogni tanto gli partiva la bambola però devo dire che è entrato Gandegarra cross, goal, ieri finalmente il primo goal ragazzi il primo goal di testa di una punta di quest'anno ci è voluto un girone da andata per fare un goal di testa delle nostre punte perché segnala solo Nico Gonzalez di testa bel goal di Beltran che poi si è preso anche il calcio di rigore quindi ieri Beltran, grandissima partita però devo dire ha sofferto come tutti in primo tempo perché? Perché i nostri esterni e non sono esterni e cioè sono esterni, sono proprio fuori dai campi cioè non ci sono hanno preso troppa la lettera questo essere esterno secondo me cioè sono proprio fuori dai campi detto questo la Fiorentina sembra che stia stringendo tantissimo per Ruben Vargas che opta, ci dice che lei è il giocatore più veloce della Bundesliga 32 km, 3 km, non ho capito bene che ha detto è il più veloce vum vum vum, spidi Gonzalez sulla vendetta e però gli manca una cosa i goal cioè non è uno che fa tanti goal e quindi che ha fatto stamattina la Fiorentina? ha detto sai che io ho visto Serino in gonge contro l'impolino fatto fun fun goal ci servirebbe un esterno di genere sembra che la Fiorentina abbia fatto un grande rilancio messo sul piatto i 10 milioni di richiesti dai Verona i iniziali perché la Fiorentina lavorava sui 7 il Verona voleva 15 poi si è fermata a 10 tra virgolette perché aveva detto sì alla Stonvilla ora la Fiorentina ha detto sai che pareggiamo l'offerta perché secondo me io ho visto tante facce soprattutto la Ligia di Buonaventura che praticamente è così dice ma che ci siamo venuti a fare effettivamente ragazzi che ci siamo andati a fare poi magari sono partite secche la Fiorentina fa la partita della vita in semifinale fa la partita della seconda vita in finale e porta a casa il trofeo io sono il primo a volerci credere però sono anche uno sportivo e la Fiorentina parte da sfavorita ma la Irlande perché? perché non ha là davanti chi dà supporto alle punte e e secondo me non mi sorprenderebbe di vedere Brecalo in panchina e Biraghi e scusatemi e Parisi là davanti non mi sorprenderebbe vedere un 3-5-2 un 3-4-1-2 non mi sorprenderebbe ragazzi eh attenzione attenzione Milenkovic quarta Ranieri attenzione in difesa Terracciano in porta che poi attenzione ci sta che giochi Christensen perché dice il portiere di Coppa ma solo di Coppa Italia di Conference League o anche della Supercoppa detto questo non sono qua tanto a snocciolare la formazione che giocherà contro il Napoli sono qua a dirvi che la Fiorentina sembra che si stia realmente muovendo per consegnare a Vincenzo Italiano al rientro da Riad al rientro speriamo più tardi perché vuol dire si gioca alla finale speriamo di vincerla però di rientrare e avendo due frecce in più all'arco cioè uno sarà Ruben Vargas a Sottile 2 la vendetta lo chiameremo attualmente poi magari ci sorprenderà e io me lo auguro e Cyril Ngonge 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 come cacchio vi pare ragazzi oh ma se ne comprasse uno e si chiama Rossi oh se è comprato Fommaso Rossi no Cyril Nonghe e Kaiode no e Kaiode no e Kaiode oh ma uno ma uno con cognome normale comunque a parte gli scherzi ragazzi la Fiorentina sembra veramente voglia chiudere per anche Cyril Cyril che non è Terò ma è Cyril Ngonge 10 milioni messi sul piatto sul piatto invece dell'Asburgo ce ne sono 5 momentaneamente perché il ragazzo ha la scadenza del contratto 2025 per quanto riguarda Ruben Vargas quindi diciamo che queste due viste potrebbero veramente accendersi da qui a weekend quindi sarà una settimana impegnativa tra la Supercoppa e il campionato e quelle che voi volete e il mercato che secondo me con ieri sera ho detto ragazzi ma se ci si può presentare ancora con Brealo ci si può presentare ancora con Imonè e io penso proprio di no quindi per il resto ve lo ridico condividete iscrivetevi e forza Viola vai se volati in Arabia